La foto La stringo tra le mani, ricambia il mio sguardo senza mutare espressione. È lì, immobile e un po' ingiallita, mentre i miei occhi vorrebbero carpire i suoi e penetrarli fino in fondo per centellinarne l'anima e per capirmi. Sì, per capirmi, perché ci sono anch'io su quel pezzo di carta, testimone di un attimo, fermo come i nostri cuori, come le nostre anime cristallizzate, felici o infelici, allora come eravamo, ora come non siamo. Le mie dita ne scorrono la patina lucida e vorrei col mio respiro far rivivere quelle due immagini che si tengono per mano, perdute nel vortice del tempo, che non possono più assaporare di nuovo quel momento di magia, che rimane soltanto il flash accantonato nella memoria di una foto.